Terribile tragedia le scorse ore nel calcio albanese durante una partita valida per il campionato. Rafael Duamena, attaccante ganese di 28 anni, ha perso la vita in campo. Durante l'incontro il giocatore ha improvvisamente accusato un malore, crollando sul terreno di gioco. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I media albanesi riportano che durante il trasporto in ambulanza sono stati effettuati i primi tentativi di rianimazione, ma il calciatore ha subito un nuovo arresto cardiaco al suo arrivo in ospedale, risultando purtroppo fatale. È da notare che Duamena aveva già vissuto un episodio simile nel 2021 durante la coppia ad Austria. Grazie.